Le LIM, attrezzature scolastiche, biblioteche arricchite da pubblicazioni sulla storia di Salerno ed altro ancora, il tutto gratuitamente negli istituti scolastici di Salerno grazie al progetto adotta la scuola sponsorizzato dai tre Leo Club cittadini attraverso l'iniziativa Leo for School. Le prime tre scuole a beneficiare dell'iniziativa saranno gli istituti di Salerno Medaglie d'Oro, la scuola San Tommaso d'Aquino di Matierno e l'Alfano Quasimodo di Sant'Eustacchio. Stamane alla provincia di Salerno si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'evento alla presenza del consigliere Dante Santoro anche nella veste di presidente dei Leo Club Salerno-Ost. Migliaia di famiglie vivono il disagio di avere i propri figli in scuole fatiscenti, abbiamo istituzioni purtroppo che sono lontane dalle vere esigenze delle scuole pubbliche, e noi abbiamo unito le anime belle della città. Con il Leo Club di Salerno permetteremo forniture gratuite per ben tre istituti di Salerno, la scuola Alfano Quasimodo, l'istituto San Tommaso d'Aquino e la scuola Medaglie d'Oro. Anche in quartiere è zona simbolo della città, zone che vivono purtroppo l'abbandono, partendo dalla zona orientale e arrivando fino alla zona di Fratti. Quindi un segnale forte che parte dal basso, ringraziamo i Leo Club di Salerno, che sono tanti giovani attivisti che si danno da fare, e poi partiamo anche con le scuole medie ed elementari con il progetto di dare, dotare le biblioteche scolastiche di compendi sulla storia di Salerno. Quindi anche i più piccoli potranno studiare la storia salernitana con quest'altro progetto di cittadinanza attiva. Un messaggio fortissimo che parte dal basso, se le istituzioni non arrivano a rispondere alle esigenze delle scuole rispondiamo con tanti cittadini attivi e tante belle realtà della città di Salerno. Avranno l'IM, avranno attrezzature scolastiche di cancelleria e, come dicevamo, anche libri che andranno ad arricchire le biblioteche scolastiche. Quindi tutto ciò che occorre per garantire una formazione migliore e dare anche una mano ai dirigenti scolastici che sono qui presenti per dare un segnale ai docenti che hanno bisogno di essere aiutati in un periodo di grande difficoltà.